5 marzo 1876 esce il primo numero del Corriere della Sera. Non è soltanto lo specchio di un'Italia solo da poco unita. Da subito dimostra una personalità che diverrà il suo DNA irrenunciabile. Con l'inizio del XX secolo, sotto la direzione di Luigi Albertini, grazie a grandi firme come Luigi Naudi, Pirandello, D'Annunzio, Barzini, si impone come il primo quotidiano nazionale per tiratura ed autorevolezza, capace di interpretare i cambiamenti sociali accettando a ogni generazione le sfide della modernità. Il giornale, fondato da Eugenio Torelli-Violier, un garibaldino deluso dagli esiti del risorgimento, si rivolgeva alla borghesia di Milano, che già ambiva al titolo di capitale morale ed Italia. Ma Mario Borsa, uno dei suoi più grandi direttori, al cui impegno si deve anche un contributo non da poco per la nascita della Repubblica italiana, scrive che la vera vocazione del Corriere è sì la moderazione, ma una moderazione non retrograda né timorosa, ma costruttiva ed ottimista. Nel trentennio del secondo dopoguerra, con Guglielmo Emanuel, Mario Missiroli, Alfio Russo e soprattutto con Giovanni Spadolini, il prestigio e la linea della testata restano intatti. Piero Ottone, subentrato nel 1972, seguendo il clima prevalente nelle élite del paese, fa accadere la pregiudiziale ostilità verso il partito comunista, provocando una cesura traumatica. Nel 1981, pubblicati gli elenchi degli affiliati alla loggia massonica segreta P2, tra i quali esponenti della proprietà del giornale, l'immagine del quotidiano entra in crisi e con essa la situazione finanziaria. Nel 1986, il Corriere confluisce in RCS editoriale. Sotto la direzione di Ugo Stille, subentrato a Piero Ostellino, torna ad occupare il primo posto tra i quotidiani italiani grazie a iniziative editoriali come i supplementi settimanali 7, Corriere Salute, Corriere Economia, cui si aggiungono sotto la direzione di Paolo Mieli nei primi anni 90, TV7, Corriere Lavoro e il magazine Io Donna. Ferruccio De Bortoli, assunta la direzione nel 1997, dà impulso all'edizione online e apre la nuova era della fruizione dei giornali, in cui le edizioni locali assumono un peso sempre più cruciale. E si arriva al XXI secolo, dopo un biennio di direzione di Stefano Folli, in via Solferino torna Paolo Mieli fino al 2009, quando la direzione passa nuovamente a Ferruccio De Bortoli e poi nel 2015 a Luciano Fontana. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!